la prossima canzone invece è nostra il primo maggio 1947 no scusate il 20 aprile 1947 si sono svolte delle libere elezioni in Sicilia è strano a dirsi il blocco popolare composto da comunisti e socialisti aveva preso il 35% dei voti pochi giorni dopo il primo maggio 1947 alcuni operai si recabono a festeggiare come era abitudine presso il pianano di Portella della Ginestra dove a trovarli aspettarono dove ad aspettarli trovarono Valerio Iunio Borghese della decima Plottiglia Mas il bandito Salvatore Giuliano e i carabinieri questa canzone parla di quei fatti e si intitola Portella della Ginestra Antonio è un contadino che ogni mattino si mette in cammino verso il campo lontano lunga la strada per trovare sono sassi da spaccare campi armi e bene un fiore Vincenzina una bambina si sogna principessino ogni mattina prima di andare al mercato per il pranzo servito per il maschio affamato per questo la mattina il contadino e la bambina sono in piedi vestiti a festa per andare a portella per andare a portella della Ginestra parano i cari parano non lo sanno cosa è quello di imparare la luce o ai metano un fuoco che brucia parano i cari parano valerio junio è un fascista il primo della lista vede nell'italia terra di conquista Giuliano è un bandico leggendario tanto quanto sanguinario insieme a loro alcuni siciliani influenti cortesi e contenti buoni da scioglietti nell'acido genzini come un cannolo rancido si sono dati a punta mezzo perché hanno un cornetto palermo è rossa palermo è comunista per questo vanno a portella della Ginestra parano i cari parano non lo sanno la prima è imparare la luce ma ripetano un fuoco che brucia parano i cari parano l'uomo passato di giaccarone sulla foglia una bandina dai nizioni doni vengono felici salute con gli amici ma proprio le fuori l'antificio l'aniero giugno è il primo a sparare una testa santa si mette a burrare Giuliano non vuole segna meno e alza la mano e mentre i cari parano i tempioli cocciono sul terreno odici papà di meno rimane polvere in tappina salvezzata la mille fia che fuga il loro sangue la nostra storia passata da una festa o a battaglia della finestra a Dax e a tutti voi fratelli partigiani e a tutti voi Grazie a tutti.